ciao a tutti sono elisa bixio e oggi vi do il benvenuto in bassarella per assaggiare l'annata 2020 che abbiamo appena messo in commercio è a base di garganega al 100 per cento come vedete siamo nel cuore del sonore classico e terreni vulcanici molto minerali e la garganega è un vitigno semi aromatico e quindi nel bicchiere ci ritroviamo tutta la sua bellissima aromaticità bassarella bicchiere il colore dorato di quest'uva si ritrova anche in un bellissimo giallo pallierino nel bicchiere ovviamente tutta la sua aromaticità esce da questo calice e in ebria i vostri sensi entra profondamente dal naso ve la ritrovate anche poi nel palato il massaggio è morbido è fragrante intrigante pieno e lunghissimo quindi vi auguro una buona degustazione venite a trovarci e 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